eccolo bentornati in un nuovo video con il grande piano attuale grande richiesta con berretto da pescatore oggi giornata a tema soprattutto in sintonia per il luogo dove siamo dove siamo siamo in grignetta a fare una via abbastanza impegnativa non avere fretta gian aspetta mi stavi già abbandonando cosa sta in farmacia pippo filippo si chiama dei tuoi video ma certo tutti si ricordano dei tuoi video tu sei famoso gian buttala buttala sasso era un po grosso opportuno che non c'era sotto nessuno era enorme perfetto pronto lanciato probabilmente perderemo la corda lungo il percorso ma questo è solo un dettaglio inizia a guardare il cielo oggi lo raggiungi signor della croce arriveranno delle ire funeste dall'alto ecco per tutte le bestie abbiamo perso già ragazzi era era qua dietro di noi a no eccolo mani concerte pronto per l'estrema unzione con cappellino da marinaio e occhiale abbastanza aggressivo dove ce l'abbiamo sopra la testa questo torrione qua stiamo a posto sempre sul pezzo grande gian guardalo lì con due dita è come goku gian siamo all'attacco so cazzi anche perché il primo tiro è tuo tutto tuo non ci puoi deludere sulle braghe magari anche su libbra niente mutanda portafortuna grattatina di maroni la teniamo buona uguale dai una misura compensativa ecco ma che figurino temperatura percepita meno due almeno almeno freddo boia fa guarda che margine che spettacolo un piede di qui un piede di là tu che adesso sono tutti insieme a 12 litiga con le corde si apre senza pensieri opla cerca la magnesite che non trova finita la fiducia per oggi fai ciao ciao che si scaldano sempre più in alto dichiarazione a caldo no comment oddio 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 vabbè dai prima un muro compatto adesso andiamo la piange dovrei fare un salto lì secondo che pure marcia viene dai 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 tanto apro io dai sarvi senza paura slunga staffa auguri ti aspettiamo con margine l'hai fatto in libera e che margine no ero preoccupato a farti una figura decente spaparanzato al sole nelle nubole soprattutto nelle nubole non banale cerca non lo convince aspetta e cerca coraggio bene triste verità ma che spaccata professionismo ecco il passaggio lì è delicatessen ma si fa bravo gian e vabbè ce ne faremo una ragione bene eccolo lì vecchia volpe tiro intenso dai bravo gian come scusa bene vai 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 non preoccuparti adesso c'è un altro diretto allegro non voglio nemmeno sapirlo non voglio nemmeno sapirlo questo cazzo è di gandina come di qua dovevi venire a fare le vie porca trove lo pego io un po' di materiale gian antoine uomo da nebbia completamente in the fog guardalo lì vai gian gian antoine che freddo ok gian il momento del traverso è arrivato auguri poi deciso studia la parete guarda guarda magia coppia cambia il bilanciamento sul piede ok una volta là c'era il lago adesso c'è solo gian antoine e la nebbia bravo così più duro del traverso ti levo cosa? un po' più in avanti ti levo sta parlando con il rinvio eh sta parlando esattamente con quel rinvio lì che è la sua speranza tirami tirami no no ancora non è arrivato il tuo momento sì possiamo spingere spingere senza pensare spingere spingere toglilo toglilo non ancora che superpoteri ah ora è finito ancora un tiro l'ultimo tiro è tuo 200 metri di tiro devo fare perché sei 220 sarà 15 metri tanto così 8.000 metri nel nulla se con il verbo già visto un fittone è in cima come è in cima è in cima ma che cazzo 15 metri l'ultimo tiro boh sarà sesto è sesto anni 30 vai guarda qua guarda qua col cappuccio bello peloso bello peloso bello orsettino guarda che astuto lui sapeva che da lì partiva il duro e ci ha piazzato il frendino un metro sopra il fittone vecchia volpe che spaccate direttamente dall'atletica reggera americana guarda qua lì opla va che inguine aperto situazione qua non è cambiata comunque sempre horrible ciao gian suona la campana di creazione già dico la merendina come è andata sono contentissima stavolta ho dormito ero convinto di non farla bravo bravo invece e invece con la tecnica della mungitura è una tecnica anche quella va benissimo stavolta fin in cima ottima bella dieta si si anche bel panorama si decisamente direi che buttiamo le doppie e andiamo a mangiare allora spero che vi sia piaciuta questa questa via perché è veramente veramente bella ora io voglio rubarvi gli ultimi 30 secondi un minuto perché vi voglio oltre che ringraziarvi per aver seguito il video voglio informarvi di un progetto che ho intrapreso e che mi farebbe piacere se partecipaste in poche parole io ho aperto su gonfond.me una raccolta fondi per un mio piccolo sogno io ho appena iniziato un corso per diventare guida alpina è un corso che è veramente fighissimo e mi porterà spero nei prossimi anni a divenire guida alpina appunto come tutte le istruzioni in Italia ha un costo che non è indifferente io pian piano ho già iniziato a mettere da parte un po' di soldi per pagare le prime rate però sto cercando un po' di sostegno tra le persone che mi seguono e che mi conoscono quindi voglio cogliere subito l'occasione per ringraziare giulio marco e speranza che sono stati tra i primi a darmi il loro supporto per questo mio progetto quindi vi ringrazio tantissimo per tutti e tre vi sono immensamente grato e se avrete piacere a supportarmi vi lascio qua in descrizione il link per fare una donazione che siano 5 euro che sia un euro che sia miliardi di euro soprattutto se sono miliardi mi piacciono però anche solo per un caffè ve ne sarei immensamente grato quindi vi lascio qua sotto il link per la donazione e man mano che la gente farà donazioni continuerò a ringraziarle nei miei video in queste bellissime montagne magari con un meteo un po' più bello e con il nostro jean antoine e la sua storia arrampicatoria quindi grazie a tutti grazie di aver seguito il video torre costanza lecco nebbia jean antoine e finita la giornata dai doppie se non succede niente andiamo a mangiare via ciao ciao